Io penso che quando si fa un punto si fa sempre, gli altri due non li abbiamo fatti, quindi abbiamo fatto un punto in più. Ho detto, credo che se si va a vedere la classifica abbiamo un punto in più, quelli che non abbiamo non li abbiamo, non possiamo dire uno in meno o uno in più, abbiamo un punto in più della settimana scorsa. Poi potrebbe essere che sia insufficiente o sufficiente, ma è un punto in più. Io non sono un uomo dai facili pentimenti, sono un peccatore incallito per la verità, io mi pento solo quando mi accorgo di aver fatto un errore, credo che 45 minuti siano pochi per tutti, tranne che per quegli esperti che hanno cominciato a fischiare, realmente quelli sono più bravi di me e hanno capito subito che abbiamo sbagliato, ma quelli sono anche più bravi di voi perché lo avevano capito ancora prima che scendessimo in campo, quindi dobbiamo dividerci fra gli stregoni che indovinano prima, gli esperti che indovinano dopo 45 minuti e quelli come me che aspettano qualche mese. Quindi a me aspettate qualche mese e poi ve lo faccio sapere. Prego. Presidente, naturalmente bentornato, io la consiglio di parlare con lei, e sono stato presente alla parretta stampa della presentazione di Camplona, Ecco, quindi facendo un pochettino un passo indietro, cosa è successo con la Cori? Perché poi la scelta di Camplona? Ma la mezza stampa è stata fatta da mio fratello insieme a Camplona perché io per le regole della Lega ero sospeso come Presidente fino a un giorno fa, sono stato reintegrato solo ieri, quindi non ho detto e dichiarato nulla. Queste che sto perdendo adesso sono le mie prime dichiarazioni che naturalmente sono in sintonia con il resto della società, ma non ripeto parole già dette. Con la Cori non era successo niente, con la Cori è successo, per rispondere ancora alla domanda intelligente della collega di prima, che dopo cinque mesi e mezzo ci siamo accorti che non eravamo fatti gli uni per l'altro, avevamo fatto una somma di considerazioni e con tutta la stima e il rispetto per l'uomo e per il tecnico di valore abbiamo avuto così la convinzione che il progetto che noi abbiamo in mente aveva scelto un interprete che per una serie di motivazioni non era più quello adatto per il futuro. E quindi a Cori abbiamo dovuto chiedergli di lasciare la squadra. Per quanto riguarda Camplone, Camplone è stato scelto sulla base di una serie di considerazioni, con un colloquio per il quale abbiamo approfondito la sua conoscenza dei nostri atleti, la sua voglia di mettersi in discussione sostituendo un nome importante, una piazza importante con una rosa importante. avevamo visto come giocava la sua cavese lo scorso anno per un camminato intero, una squadra che ci aveva dato la sensazione di aver assimilato gli schemi del proprio allenatore, di essere soprattutto una squadra come la vogliamo noi, al della cavese, aggressiva, vincente, determinata, capace di non arrendersi mai, anche davanti a una inferiorità tecnica rispetto alle altre squadre, abbiamo pensato che un giovane emergente con una rosa importante poteva essere una svolta psicologica soprattutto sui ragazzi che ci avevano dato l'idea di essersi un po' seduti nelle ultime settimane, di aver assunto un po' la mentalità e il ritmo degli impiegati che fanno il loro mestiere, marcando il cartellino e facendo il proprio dovere. Noi pensiamo che il calcio sia qualcosa di diverso da un compito scolastico, dall'applicazione rigida di un tema, pensiamo che sia soprattutto cuore, anima, sacrificio. Camplone ci sembra che risponda a questi requisiti come carattere, come volontà e abbiamo scelto Camplone. Noi non abbiamo mai suggerimenti, noi normalmente e per i calciatori, e per i collaboratori tecnici, e per i collaboratori di società, abbiamo sempre una rete di osservatori e una rete di informatori e teniamo continuamente aggiornate quella che in società è un software che abbiamo predisposto, che ci siamo fatti fare, e abbiamo tutte le informazioni relative alle persone che pensiamo possono essere ingaggiate per migliorare la qualità di questo business complessivo, dalla presidenza al magazzino. Camplone è stata una scelta immediata o ha una rosa di qualche nome che avevate in questo sottile? Noi avevamo una rosa di allenatori, non avevamo una rosa, sto dicendo proprio questo, noi abbiamo una serie di elementi che ci vengono forniti in maniera metodica, regolare, da parte di collaboratori esterni alla società e che ci informano su calciatori, su tecnici, su accompagnatori, su team manager, su direttori sportivi, e poi alla fine facciamo quello che fanno tutte le persone più semplici di questo mondo, la somma dei più e dei meno, quando il più supera il meno, proviamo ad ingaggiare qualcuno che ci aiuti e che dia del valore aggiunto. Questo non significa che siamo infallibili, perché altrimenti faremo tutti quanti i 13 a Totocalcio. Speriamo che Camplone, sulla scia di quello che è successo anche negli anni precedenti, cioè che il secondo è stato sempre più fruttuoso del primo, anche Camplone conferme questa nostra regola. Lo speriamo, poi lo vedremo.